Per entrare in comunione La via della conoscenza attraverso attilio m.vocedellacuiete.vajanocchiocciola.gmail.com Entità scientifica È possibile allora che finché c'è la mente voi entriate in comunione con il modo con cui avete definito una persona? Oppure voi entrate in comunione tra virgolette con il modo con cui avete definito quella persona mentre invece l'unica maniera per entrare in comunione con una persona è di fare cadere le etichette e quindi di ritrovarvi di fronte al mistero? L'unico modo che avete per entrare in comunione è considerare l'altro un mistero e voi stessi un mistero ed in questo ripristinare la sacralità della vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti